Oh, fratello, ciao! Oh, scusa, ma sono due ore che giro, ma dove si butta sta lattina? No, non si butta, si ricicla! Si ricosa? Ricicla! Eh? Si riutilizza! A me mancano due lattine e mi faccio la bicicletta! Ehm... Ma tu lo sapevi che con 150 lattine si ottiene una bicicletta? Questo qua è fuori, adesso con 150 lattine uno si fa la bicicletta, che le lattine non hanno neanche le ruote, non c'è neanche il campanello, ma cosa farei? Ma che bicicletta fare? Ma lo bello è fuori, questo qua è fuori! Ma no, l'alluminio delle lattine si trasforma in una bicicletta grazie a conai! Con chi? Conai! Queste lattine sono una bicicletta, queste bottiglie di vetro sono un vaso di fiori! No, non ho messo il gel! Ma no, è una cosa seria, lasciami spiegare! Per fare una padella ci vogliono i barattoli di acciaio, per fare il pa e il ci vuole la plastica! Non è la sua canzone, per fare l'albero ci vuole il sale, ci vuole il fiume, ci vuole il fiume! No, aspetta, non era il fiume, aspetta! Conai è il Consorzio Nazionale Imballaggi, tutti i materiali riciclati di alluminio, acciaio, carta, legno, plastica, vetro, rinascono in una nuova forma senza sprecare nulla e così da cosa rinasce cosa? Chi è la cosa? Tutto! Ma se prima hai detto cosa, no? No, no, tutto non è cosa nel senso di tutto, no? Sì, vabbè! No, non l'ho mai fatto così! Per fare un cerchione ci vogliono 640 lattine di alluminio, con tre scatole di carta otteniamo una cartelletta e con 11 flaconi di plastica di detersivo otteniamo un innaffiatoio! Non solo, con sette barattoli di acciaio otteniamo un vassoio e con quattro pallet in legno una scrivania! No, ti stimo Conai, sei veramente qualcuno! Grande! Ma dove vai vestito così? Oh, faceva freddo! Mi sono messo il pile! Conai! Presa! No! C'ho la tasca aperta! Conai!